bonjour svegli a 5 e un quarto colazione adesso ho perso la cognizione del tempo saranno le 6 eventi circa questo è quello che si vede dall'albergo gallerhof c'è anche un micio ciao amico ed eccoci qua qui la belvetta è pronta pronta però deciso di prendere la macchina va perché qui tornare su non vorrei fare aggiungere 10 km a tutta la sfacchinata per cui eccola la bestia che aspetta carico e vado al parcheggio sperando ci siamo scaricato tutto non dovrei aver dimenticato niente gran bordello vado verso la partenza adesso non troppo flusso ma là ci sarà paressa la piccola ressa dei 3.000 gli altri 3.000 sono davanti questo 3.000 in fuori piattini sono praticamente da soli siamo ragazzi sono in griglia qualche minuto si parte 5 minuti 5 minuti andrà in testa qua ragazzi in realtà più che sono qua a vivere ciao Grazie a tutti.